con i vegetti puoi solo ridere non possiamo fare altro si mi sembra giusto allora guardate su motoclub i leoni ci saranno le vostre foto ci vuole il discorso della liberatoria e dopo ci sarà il filmino ma va hai già fatto dai il biglietto e te ce li hai i biglietti se te dai via tutto ascolta beh basta che fate motoclub i leoni fra un po arrivano